Claudia Galanti ritrova l'amore con Luca lui è l'ex di Cecilia Rodriguez cosa hanno in comune Claudia Galanti e Cecilia Rodriguez una persona o meglio un uomo lui nello specifico si chiama Luca e stando a quanto riportato dal settimanale chi sarebbe il nuovo fidanzato di Claudia Galanti cosa c'entra in tutto questo la sorella di Belen ebbene pare che l'uomo in questione sia stato un suo ex tra Cecilia Rodriguez e Luca però la storia è ormai finita da un pezzo così come tra lui e Delenoa Casalegno anche lei sua ex fidanzata Cecilia d'altronde adesso è felice e innamorata di Ignazio Moser con il quale in più occasioni ha ribadito di voler mettere su famiglia.Claudia Galanti chi è il nuovo fidanzato Luca ecco tutto quello che sappiamo del nuovo amore di Claudia Galanti a parte che si chiama Luca e che è l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sappiamo che è un imprenditore avviato che gestisce l'attività di famiglia nel milanese di lui e Claudia in realtà si era già vociferato in passato ma è nella rubrica chicche di gossip di chi che oggi arriva la conferma.La coppia però pare stia facendo di tutto per mantenere il riservo pare infatti che si frequentino da più di un mese ma in gran segreto lei ufficialmente ha fatto sapere di essere tornata in Italia semplicemente per seguire un corso di cucina.Claudia Galanti ritrova l'amore dopo Arnaud arriva Luca l'amore tra Claudia Galanti e l'ex moaco Arnaud attualmente rinchiuso nel carcere di Parigi è ufficialmente arrivato al capolinea diverse settimane fa quando, dopo aver dato una seconda change all'uomo, la showgirl ha deciso di chiudere definitivamente questa storia tormentata per saperne di più clicca qui. Adesso, però, una nuova stagione amorosa pare starsi prospettando a Claudia che, dopo un amore burrascosso, sembra adesso intenzionata a godersi il suo momento di felicità con Luca. Grazie a tutti.